Ho fatto una pazzia, quindi ho deciso no, sì, cioè no sì, sì, cioè no no, sì, sì, mi compro un paio di scarpe importanti Purtroppo non è un video advertisement quindi non mi hanno regalato queste scarpe Magari Angela se vedi questo video facci un pensierino Allora, oddio, sono super emozionata Ciao amici, ok, volevo provare una cosa nuova Ciao amici, ciao amiche, this is Chaya, the Ine Girl, welcome back to my YouTube channel Oggi un video piccolissimo, no, cortissimo, no, non ce la farò mai fare i video corti Comunque il concetto di questo video è molto semplice Come avrete sicuramente capito dal titolo, voglio mostrarvi il mio autoregalo per il mio prossimo compleanno Che è tra pochissimi giorni Voglio farvelo vedere in anteprima perché ovviamente se mi seguite su Instagram E se non lo fate ricordatevi di farlo all'indirizzo I am the Indian Girl Avrete già visto che sono andata a ritirarlo, che ero particolarmente felice Insomma, sono ancora in questo stato di ebrezza, in questo stato di entusiasmo Questa energia, questa cosa che solo lo shopping può dare Che voglio assolutamente condividere con voi E in qualche modo cercherò di trasmettere questa felicità E soprattutto questa emozione attraverso questo video Spero che questo video vi possa piacere Ricordatevi di lasciarmi un piccolo pollice alzato E se non siete ancora iscritti al mio canale Non dimenticate di subscribe Perché ci saranno un sacco di video in arrivo Questo video è importante per due ragioni La prima perché ovviamente il compleanno è una data molto importante nella vita di una persona Purtroppo accade una sola volta all'anno Se no ci sarebbero altri autoregali E tralasciamo il fatto che me li faccio anche durante l'anno Però è un evento da festeggiare O almeno io sono dell'idea che ogni anno va festeggiato Perché è veramente molto importante ringraziare qualcuno Che siamo ancora qui Che stiamo vivendo una bella vita Che siamo felici Ci sono alti e bassi Ci sono porte in faccia Ci sono momenti no Ma la vita è bella La data del compleanno per me è una cosa super importante Va festeggiata È un altro anno in questo beautiful world Quindi in questo mondo meraviglioso E sono veramente contenta di farne parte Quindi io ogni anno soffio sulle candeline E spero che lo facciate anche voi E se non lo fate Considerate queste parole Detto questo Ho fatto questa premessa La seconda cosa super importante di questo video È perché ho fatto una pazzia Ho fatto una pazzia Che non mi succedeva dal mio trentesimo compleanno O dal trentunesimo Perché? Per il mio trentesimo compleanno Mi sono comprata le Louboutin Eh sì Vi avevo raccontato su Instagram Che per me le Louboutin sono simbolo di successo Di donna manager Working like a boss Blah 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 Women power E le ho sognate una vita Mi sono sempre detta Un giorno le avrai Lavora a sodo E un giorno le compri A trent'anni Ero in un momento della mia vita professionale In cui guadagnavo veramente bene E finalmente Mi sono premiata Mi sono fatta questo autoregalo E mi sono comprata le scarpe dei miei sogni Questa è una cosa che secondo me è molto importante Perché per me non è la scarpa in sé Cosa che tra l'altro utilizzo veramente pochissimo Per due ragioni La prima perché fanno male La seconda perché ho paura di rovinarle Però è importantissima perché per me queste scarpe rappresentano un traguardo Cioè sono una milestone della mia vita Quindi hanno tutto un loro perché A trentun'anni mi sono comprata le Valentino Le Rockstad Però avevo trovato un prezzo super fantastico Quindi in saldo Tra l'altro una cosa super figa Io compio gli anni durante il periodo dei saldi Quindi perfetto Durante gli anni scorsi mi sono regalata dei viaggi importanti Sono andata in Thailandia Sono andata alle Bahamas Insomma ho speso i soldi nel modo che io reputo migliore al mondo Esperienze, viaggi, wanderlust Quest'anno però sono costretta a rimanere ancorata La mia nuova SRL E per questo motivo non posso viaggiare Quindi ho deciso No Sì Cioè no sì Sì Cioè no no Sì Sì Mi compro un paio di scarpe importanti Risultato E lo avete sicuramente già visto su Instagram Sono uscita dal mio negozio preferito di Bassano Con due borse Bimbo felice uno di questi sacchettini contiene un regalo direi un super regalo e posso aprirlo solamente il giorno del mio compleanno perché Jan ha deciso di farmi questo regalo e quindi non si tratta di un auto regalo mentre questo si tratta del mio auto regalo e posso tranquillamente farvelo vedere anche perché ho intenzione di indossarlo proprio il giorno del mio compleanno Incontri fa parte del gruppo Mengotti è uno dei miei negozi preferiti di Bassano purtroppo non è un video advertisement quindi non mi hanno regalato queste scarpe magari Angela se vedi questo video faccio un pensierino e ha diciamo dei brand molto 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 interessanti per la sottoscritta Mengotti ha una serie di brand italiani e non 100% pelle sicuramente molto importanti ma incontri ha i miei brand preferiti quindi potete trovare Prada Jimmy Choo e ovviamente Casa Dei Casa Dei Casa Dei ok sto delirando allora oddio sono super emozionata non mi accadeva appunto da l'anno dal mio trentesimo compleanno di spendere così tanti saldi per un paio di scarpe e vi assicuro se siete anche nuove sul mio canale che non sono il tipo io sono una persona che generalmente il 99% va a fare acquisti da Zara però per quanto riguarda gli accessori quindi borse cinture calzature mi piace ovviamente spendere però non sono una persona che può permettersi una Louis Vuitton ogni mese no una volta all'anno mi concedo un regalo un autoregalo un po' importante quindi tra tutte le scarpe a 50 euro che compro da Zara oppure che trovo ai saldi per un po' meno ci sono anche delle scarpe un po' più importanti come in questo caso questo regalo per il mio trentaquattresimo compleanno non so se avete sentito come l'ho detto cioè l'ho praticamente cinguettato 34 eh sì sono tanti ma sono fiera perché li ho vissuti tutti quindi lo dico e non ho problemi a dire la mia età ma è arrivato il momento di aprire questa scatola siete curiosi di vederle? allora piccola premessa anche quelle che mi ha regalato Jan sono delle Casa Day ve le farò vedere più avanti e sono sicuramente molto più classiche per questo motivo proprio perché Jan mi ha comprato la versione classica ho deciso di osare ho deciso di osare borsina ho deciso di osare con un modello wow must have una cosa che utilizzerò tutte le stagioni per sempre perché per sempre non so se conoscete le Casa Day però hanno il tacco più comodo nella storia dei tacchi o almeno questa è la mia esperienza per esempio le Louboutin perché sono scomodi? perché hanno una inclinazione del tacco praticamente impossibile per la pianta del piede e lo dice una che le ha comprate e le adora però fanno male fanno male perché a chi compra Louboutin non gliene frega un cavolo della comodità mentre le Casa Day sono una cosa particolare hanno un tacco con un'inclinazione tale che veramente sono comode non lo sto dicendo per autoconvincervi ma perché è un dato di fatto come le Jimmy Choo anche le Jimmy Choo sono molto molto comode e adesso è arrivato il momento di mostrarvi questo fantastico pezzo che entrerà da oggi o meglio dal 14 febbraio che è il giorno del mio compleanno a far parte della collezione di pezzi wow allora io voglio che facciamo un minuto di silenzio per queste scarpe allora un minuto è troppo perché questo video già durerà un eterno comunque consideratelo fatto adesso che avete osservato questo minuto di silenzio prego notare la bellezza di questo stivaletto allora è uno stivaletto un po' aggressive un po' fuori dal comune sicuramente non è un classico però è un must have che non lo so mi ha fatto completamente perdere la testa il tacco super stiletto di Casa Dei cioè io adoro 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 e lo so che molti di voi adesso mi scriveranno nei commenti che è finissimo però vi assicuro andate in una boutique e provatelo è incredibile il piede poggia benissimo sul tacco ed è una cosa incredibilmente comoda poi ovviamente io sono una persona abituata ai tacchi alti però ragazzi questo tacco non è un semplice tacco questo tacco è un capolavoro modello a punta voi sapete che odio le punte arrotondate ma mi piace la punta e ovviamente va l'animalier quindi pitone mi piace molto anche questo motivo qui molto rock molto rodeo e vestono fantasticamente con tutto cioè sono perfette per creare qualsiasi outfit un vestitino nero con calza pesante in questa stagione un vestitino nero in estate un jeans una maglietta un jeans un giubbetto di jeans cioè potete creare dall'outfit super casual a quello super elegante con una sola calzatura cioè io mi sono innamorata e vi assicuro che oddio oddio sono troppo felice cioè non lo so forse attendo con ansia il mio compleanno proprio per farmi questo tipo di autoregali perché comunque è stato un autoregalo molto importante e andiamo a noi cioè adesso vi devo raccontare un po' la storia io avevo puntato ad un modello di dolce gabbana molto carino rosso con la suola leopardata praticamente una sorta di louboutin animalier quindi quando cammini si vede proprio il motivo leopardato sotto e mi erano piaciute un sacco allora avevo ordinato il numero e sono andata a ritirarlo quando sono andata lì la commessa che è stata bravissima a fare il suo lavoro mi ha fatto vedere il modello di casa day che mi ha regalato Yann e che vi farò vedere che è un modello molto più classico e ho deciso di prendere quelle al posto delle dolce gabbana perché alla fine le dolce gabbana si erano comunque un modello rosso leopardato che metto sicuramente meno rispetto a un modello classico come quello che ho preso e poi siccome Yann insisteva a comprarmi queste scarpe io ho detto alla commessa beh allora se mi fai vedere qualcos'altro mi voglio fare il mio autoregalo quindi è stata anche un po' colpa o meglio merito di Yann che ha insistito dicendo guarda Gian non ho tempo per trovarti un regalo te lo compro come regalo ok 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 a quel punto la commessa mi ha mostrato questo stivaletto e mi ha detto lo so che è completamente out of budget perché questo era veramente fuori dal budget che avevo pensato però sono bellissimi ho ancora il tuo numero e sono veramente un pezzo da collezione morale della favola quando l'ho provato e vi assicuro è comodissimo è stato un love at first sight l'unico problemino era il prezzo perché questi stivaletti costano la bellezza di quasi mille euro 950 e qualcosa cosa? cioè io non ho mai mai fatto delle spese di questo genere cioè non sono il tipo e sinceramente al momento non me lo posso neanche permettere al giorno d'oggi con l'apertura della filiale il trasloco e tutte le varie ed eventuali non potrei nemmeno permettermi una Louboutin come ho fatto quattro anni fa quindi io panico cioè adesso me l'hai fatta provare mi sono innamorata e costano l'ira di dio cosa è successo? c'è il 50% perché la Jaya compie gli anni durante i saldi yeah e quindi le ho prese non facciamo i calcoli di quanto ho speso quindi non scrivetemelo già l'ho preso ho passato la mia carta la carta ha funzionato e adesso sono qui a casa con me e non vedo l'ora di portarle quindi presumo che per l'aperitivo del mio compleanno industerò le mie nuovissime casa day sono consapevole che sono molto particolari e che possono anche non piacere a tutte quindi sono consapevole che molte di voi mi diranno però in realtà andate un attimo oltre guardate il lato fashionista guardate questo must have che va davvero con qualsiasi outfit e soprattutto seguitemi su instagram all'indirizzo I am the Indian girl perché vi farò vedere un sacco di outfit con queste calzature che sicuramente ve ne innamorerete ve ne innamorerete tropper in ogni caso questo è il mio auto regalo per il 2019 per i miei 34 compleanni per i miei 34 anni intendevo spero davvero che questo video vi sia piaciuto lasciatemi un piccolo pollice alzato e se volete vedere altri video altri questi pazzi altre cose della sottoscritta mi raccomando iscrivetevi al mio canale subscribe e ci vediamo ovviamente al prossimo compleanno e alla prossima spesa pazza ciao ciao